eccoli qua i due creatori i due uomini con la coppa della gott league eccola qua poi la coppa è enorme l'ingresso delle due squadre è la finale mamma mia cina contro redlock buonasera dai matosci e buonasera da pancio ne approfitto per dire che visto che siamo arrivati a 500 abbonamenti ma potremmo farne altre si partirà con uno shot out a testa a squadra e toccherà a faina e a sturniolo perché questo è lo show al centro del campo e loco sturniolo nella finale ragazzi è arrivato il fischio parte mario sturniolo attenzione primo pallone della finalissima c'era lui l'allenatore dei redlock mario 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 per pochissimo quasi non beffava incredibile il re di ponte de nona niente stretching per lui perché questo conta di più palotelli l'ha catechizzato stavolta la mano in tasca e non se la mette damiano faina contro insta keeper faina 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 no allora il fiche con il numero 10 a battere questo corner potente in mezzo amelia attenzione e il fiche parte il suo destro e il fiche amelia anticipa anche sergio crus e sergio crus dice ok citerio citerio sandro nesta tempesta perfetta poi garete geminiani al centro per il fiche tunnel quasi involontario poi geminiani con la punta riesce a servire ancora il fiche attenzione il fiche il tiro la palla che esce di poco ma è stata deviata sarà corner per 5 minuti e 30 in questo primo tempo in questo primo tempo nel fiche sul secondo palo a cercare crussa e poi arriva citte il capitano che in questo momento hanno una parte dell'orecchio della coppa in mano signori si su calcio piazzato forse è meglio i redlock eh dipesa un po statica della cucina eh attenzione il fiche e il fiche di punta fallo di mano shot out di andarla a rivedere di punta ha provato eh di far volare i redlock sul 2 a 0 ma dall'altra parte c'è Marco Amelia campione del mondo campione e allora il fiche il fiche il fiche il numero 10 salta Amelia il fiche l'arcere 2 a 0 e se chiede il fiche 2 a 0 dei redlock ed è psicodrama fucina male male come inizio sono bastati 8 minuti Damiano Faina ha deciso di utilizzare la carta rigore presidenziale ma Fredi corre in campo Pancio vuoi farlo tu? vai Domenico Manfredi contro Antonio Giuliano Manfredi e anche questa volta mi dispiace sbaglia Domenico Manfredi ragazzi gol di Citte gol di fiche pallone in avanti di insta keeper mamma mia Sergio Cruz madre di Dios Sergio Cruz ogni volta con il suo discorso sull'utilizzo delle braccia e il fiche barriera 3 parte il fiche gol lanciere e gol 3 a 0 fiche grande fiche grande ancora lui ragazzi ma si è aperta la barriera si è aperta la barriera il mister Mario Sturniolo gioca la carta turnover forzato fuori 9 4 e 10 ma che squadra sono ragazzi illegali ragazzi questi red gemminiani ancora lui la finta va sul sinistro gemminiani deviato Abe no l'ha sbagliato e l'hai mangiato Abe ah yeah yeah aia ya shot out Matteucci Matteucci contro Insta Kieper Matteucci Matteucci A prestinistro Insta Kieper Grande, grande Dice di no Il mio uomo E allora Sergio Cruz Va Contro Marco Amelia Parte il numero 11 Rosso Nero Sergio Cruz Sergio Cruz Grande Mamma mia Eeeh Sergio Cruz Poké Speffeggia la fucina Quindi mal che vada Andiamo a riposo sul 4-2 Che finto ragazzi Parte lui Contro Insta Kieper Salmazo Salmazo s'allarga E poi sbaglia Anche Salmazo sbaglia Secondo errore della fucina Il Fiche Ficheira Per la manita Ficheira contro Amelia Ficheira 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 Eeeh Incredibile Fiche Ficheira 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 L'Arcere Ma io te l'avevo detto Ma di cosa stiamo parlando Con quei rigori là ragazzi La fucina E come se praticamente si è Diciamo Era la loro finale Secondo me E allora vediamo Simone Simoni Che parte Con il sinistro Sempre Non nella rincorsa precisa Poi Simone Traversa Traversa E allora L'essere perfetto Eccolo qua Inquadrato Abe Il numero 6 Dei rossolieri Per il cappotto Redlock Madre mia Abe Contro Amelia Abe Finta contro Finta Abe La porta è vuota Abe 6 a 0 Redlock Signori In onore di Dragon Ball Bellissimo Bellissimo Questo omaggio Grandissimo Da parte dei Redlock Con Freezer Bellissima immagine Bellissimo H Per Bertani Che lascia lì il pallone Per Matteucci Matteucci Sto cercando di tenerla su Questo 6 a 0 In una finale Cercando una spiegazione logica A questo dramma Da parte della fucina Manfredi è completamente Manfred Eh ragazzi Fuori area Ancora occasione Volevo Avrei voluto giocarmela Un po' di più Ma è uscito dall'area È uscito il portiere È espulso Credo Oh è espulso È espulso Amelia Eh sì perché è uscito dall'area Non sa neanche farlo Lancia i guanti Amelia Secondo me lo fa È un modo per abbandonare la fucina In realtà Rivediamo intanto Quello che è successo Boh Allora Intanto Aspettiamo Cosa fa Il risponso Lo sta facendo Ragazzi Dai ma che pancio Ma su Ragazzi per favore Responso del bar Non abbiamo un'immagine ideale Da questo visuale Però sembra tutto puntare Ad essere fuori Rimane la decisione dal campo Calcio di punizione diretto Si sta scaldando Cosa sta facendo Cristuolo in porta Devono provare il massimo sforzo Lo ascolta Hacke Si propone dentro l'area di rigore Il pallone è dentro Hacke Bertani Bertani Fuori Fuori Era difficilissima Qua Bertani Gli è arrivata una palla volante Avevamo capito Ander noi quella roba lì Ed è normale Volevo capire cosa ha detto Piccia Sturniolo Sì no Non l'abbiamo capito bene Attenzione Matteucci 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 Sei a due nella cucina Matteucci Con il suo capitano E adesso signori Prova a puntare il città Lo salta Marwan Oh mio Dio La ruletta Poi attenzione La possibilità Matteucci Polo Incredibile Ancora una volta Non è serato Non capita Non capita Eh ma quando lo dici Attenzione Bobbi Abale Istakieper Carta giocata Dalla cucina Doppio rosso Fuori Abe E citte No Attenzione Matteucci Se ne va Bertani Dentro l'area Bertani Bertani 6 a 3 Occhio Per quel pagliaccio Di Manfredi Occhio E adesso Soltà uno in meno Chiamata Da mister Sturniolo Doppio cartellino Rosso Fuori Bertani Bertani E Matteucci Per tre minuti O un gol Quando sei qui Mario Sturniolo Cosa fa Espulso 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 Mario Sturniolo Che abbandona il capo Con le braccia Tese C'è anche un Giuseppe Chirico La dietro Mamma mia Messo il turbo Però si è allungato Troppo il pallone Poi attenzione Mano di Ferrigno Che appena è stato munito Si butta poi a terra Allora Marwan Marwan Frottini Per il numero 8 Bobbi Abale Poi Hac Da lì ha già segnato Agli Olimpo Però preferisce allargare Per Matteucci Che punta L'altro numero 10 Fiche Pallone dentro Per Beltrani Poi Marwan Frottini 6 a 4 Signori Cosa sta succedendo Alla Leone Arena C'è stato il pugnetto C'è stato il pugnetto In chat Sì in chat In telecronaca Frottini Che gol Torna anche Sergio Cruz Non molla nessuno In questo momento È giusto crederci Frottini Pallone Beltrani Hac Ma non ci credo Ma quello è Citte Non lo so Secondo me è Insta Keeper Ragazzi Mamma mia Grandi applausi Perché Sta ritornando Marco Amelia Attenzione Oh mio Dio Attenzione C'è Bertani Dal limite Bertani Bertani Insta Keeper Cosa avevano confezionato prima Attenzione signori Finisce qua il match Ora c'è la ruota È finito Nude Non è forte Signori Devi tirare di prima Buonanotte Frottini Ancora Amelia Dal limite Extra pass Per Hac Hac Male Art attack Tira fuori Allora Abe Rimette in gioco Dai 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 È tutto legale E Frottini Riconquista palla Però ritorna Sergio Cruz Pereira In scivolata Se ne va attenzione Sergio Cruz È solo Momo Momo contro Amelia Momo Momo Mette il punto Esclamativo 7 a 4 28 secondi Al termine I Redlock Ora Sono sempre più vicini Ad essere di nuovo Campioni Proprio lui Momo Ma ragazzi Sergio Cruz Ma che ha fatto È andato a recuperarsi La palla Ha anticipato Hac Dandogli una palla A Momo Che era uno Shot out Praticamente Sul suo piede E allora Bravi Bravi perché Gliel'abbiamo fatta sudare Bravissimo Eccolo qua Guarda che roba Non tirano mai Quelli della fucina Non ci provano nemmeno La porta è vuota E forse ne prendono un altro Garrett Gemignani Garrett Gemignani 8 a 4 Per il Redlock Si può insultare In casa Redlock Eh sì La vittoria È netta 8 a 4 E segna anche lui Redlock ragazzi Che hanno Un passo Possiamo dirlo adesso Si sì Massenior Dalla vittoria Della winter season A 10 secondi Questo possiamo dirlo Il gesto dell'anello Di Citerio Ragazzi 5 4 3 2 1 I Redlock Vincono Per la terza volta La coppa E vincono Per la prima volta Il campionato Complimenti ai Redlock Ai rossoneri Del Masseo Del Masseo Campioni Delle winter finals 2024 I Redlock Sono Campioni Della winter season Per la terza volta Che partita ragazzi Che partita Che partita Ma io vi ricordo ragazzi Di iscrivervi al canale Attivare la campanellina Lasciare il pollicione Ma il bel tempo Mi piace amici Ma ci sono i mi piace E E E E E E E E